Beh, sono 13 anni che canto con questo gruppo e in questi casi capisco anche il perché. Facciamo un applauso a Mr. Chiodo. Grazie. La prossima canzone... Sono molto legato. E' il calcio in culo, la prossima canzone. Io ogni canzone in questa zona ci ho cantato molte volte. Stasera ho rivisto due o tre persone che un po' meno svedo. Una di queste si chiama Michela Lombardi, è un'amica di una cantante stupenda, meravigliosa. E li volevo dedicare a lei. Ciao. Ciao. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti